Un 27enne è stato ritrovato in una pozza di sangue ad Arezzo sotto il porticato di piazza San Jacopo. L'uomo è stato aggredito e ferito con un collo di bottiglia rotto. I passanti hanno dato l'allarme, come vedete qui nella colonna ci sono ancora dei segni di sangue. Ci troviamo in pieno centro ad Arezzo. La lite con un gruppo di persone, gli aggressori sarebbero più di uno, è iniziata in piazza Sant'Agostino per poi proseguire in questo tratto di via Margaritone. Qui per terra ci sono altri segni, sangue e frammenti di vetro. Il 27enne, residente ad Arezzo, è stato colpito più volte alla testa, alle braccia e al collo. Sono stati i passanti ad allertare i soccorsi. In centro c'era molta gente. Da poco era infatti terminata la prova generale della giostra del Saracino, ma gli inquirenti escludono un legame con la manifestazione in corso. Guardavamo la provaccia alla televisione, ma abbiamo visto un po' di gente. Correre per il corso e poi abbiamo sentito l'ambulanza. Tutto qui, non ci siamo accorti di niente. Questa però è una zona notoriamente tranquilla. Sì, diciamo che ora c'è un più vavai di gente la sera, anche le famiglie che vanno a vedere le prove, oppure c'è più movida la sera, però non si è mai sentito cose strane. Sul caso indaga la squadra mobile di Arezzo con il neodirigente Sergio Leo. I poliziotti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Per il momento si apprende solo che il ragazzo è stato aggredito da più persone, probabilmente due, sembra per futili motivi. Il collo di bottiglia è stato ritrovato dagli inquirenti nel luogo dell'aggressione e posto sotto sequestro. Il 27enne è ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo in condizioni stabili.